Il PD esce sconfitto dalla tornata amministrativa in Abruzzo. Lo ammette in una nota anche il segretario regionale del partito Marco Rapino, che si dice amareggiato soprattutto per il risultato del capologo di regione. La debacle di L'Aquila, unita alla sconfitta di Avezzano, infatti, è il segnale più forte a livello della politica regionale. Segno, dice Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, che le politiche di D'Alfonso non sono gradite. Segnale inequivocabile del vento che soffia verso destra, continua Pagano, da raccogliere anche a livello nazionale. Il risultato dell'Aquila, in modo particolare, dà la misura di quanto evidentemente il centrosinistra e il PD, in modo particolare, stia vivendo una fase di gravissima crisi. È evidente che c'è disaffezione anche per le politiche regionali. Non è gradito, evidentemente, il presidente della regione D'Alfonso. È un segnale chiaro, inequivocabile, che in questo momento si dovrebbe tornare a rivotare anche a Pescara e in regione Abruzzo e certamente, certamente, per noi sarebbero momenti di gloria. Io sono sicuro che gli elettori dell'Aquila, di Avezzano e degli altri comuni, dove si è tornato a votare, hanno votato così perché rimpiangono i governi di centrodestra. Il presidente D'Alfonso chiede al suo partito di riflettere sulla sconfitta, soprattutto su quella dell'Aquila, dove dice ero convinto di vincere. Per D'Alfonso c'è bisogno di radicalità, un tema che sarà affrontato all'interno del PD. Sono dispiaciuto. Io ero convinto che vincevamo all'Aquila, ad Avezzano, e devo dire che avevo anche ottimi giudizi riguardanti altri centri minori in Abruzzo. La sconfitta di l'Aquila e di Avezzano pongono un problema da affrontare e da risolvere. Ero convinto dalla qualità del candidato all'Aquila e ad Avezzano, del lavoro fatto da me apprezzato, della qualità delle liste e anche di un rapporto funzionante tra istituzioni e cittadinanza. La democrazia è fatta così. Ogni volta si ricomincia da zero e poi, quando si va a contare, bisogna essere all'altezza di vincere. Certo, io scrivo nella mia rubrica come questi due risultati sono due sconfitte rispetto alle quali la classe dirigente dovrà rimettersi a zappettare, a ricreare un rapporto funzionante, una capacità di ascolto e di veduta e anche a trovare una radicalità capace di fronteggiare i problemi che i cittadini pongono.